Un'aggressione violenta con coltelli e bottiglie di vetro, al culmine di una lite iniziata per futili motivi, forse per un apprezzamento fatto a una ragazza. Sono tre i giovani accusati del dentato omicidio di un 27enne di origine marocchine, Imad Jhaid, accolto nella serata di sabato scorso a Quartu, in piazza Santa Maria. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma in prognosi riservata a causa delle gravi ferite subite durante l'aggressione. Un fendente lo ha raggiunto al polmone, perforandolo. Il cerchio sui responsabili, però, grazie anche alle immagini di videosorveglianza delle zone visionate dalla polizia, si è chiuso in poco tempo. Individuati e fermati a poche ore dal fatto i fratelli Stefano e Cristian Mallus e Gabriele Cabras. I tre giovani sono stati accompagnati in commissarato per essere interrogati, mentre la vittima, prima soccorsa da un'amica che lo ha portato al marino, è stata trasferita e ricoverata all'ospedale Bruzzo di Cagliari. I prossimi giorni saranno fondamentali. I tre presunti responsabili dovranno comparire davanti al GIP per l'udienza di convalida. Nel frattempo, gli agenti della polizia dovrebbero interrogare al più presto sia la vittima, per conoscere l'esatta dinamica dei fatti, sia l'unica testimone, l'amica del 27enne che lo ha soccorso.